Non ho niente da guardare per Halloween Che poi potrei anche parlare solo di qualche film in particolare Ci sono un sacco di film che la gente non ha mai visto, sono sconosciuti Le strane creature dei testicoli Le collane DVD di Explora 6 Decidi la verità da... per... per... Non so cosa cacca... Occhiali 3D di D inclusi Che sia quello che sento sbriciolato dentro i testicoli Il film che ha terrorizzato l'America Siete delle puf E tanto per restare in te, te paranormal pussy Non capisco perché la gente non vada a vedere i film horror francesi che sono una merda Ha fatto il cielo a forma di cielo che però sembra anche un cielo Poi se vuoi farti quattro risate Shawash Oh Wrestler vs Zossler Che vuoi di più? Questo è oro I have a nice ass Ah Beh Manca la parrucca Quei cazzo lunghi 200 kg Però per il resto ci siamo Madre di Dio Webstar Magazine Il primo numero della rivista sui genitali Apparentemente Ochi, tra i quali gli attrezzi del mestiere e il suo joystick preferistico Eh sì, perché non c'è niente di più sexy Dei morti in cucina con il mio cazzo Gnammi, chissà cosa mangiamo oggi Birra con l'osso, carne di cane Oh, va bene Uh, c'è anche la posta del Ciao, sono Sofia Mi piace al Kogan da due anni E io piaccio a lui Ma il problema è che il cazzo è stato una delusione Il racconto dei racconti I raduni sono occasioni uniche che permettono ai creator di fotografare il web star mentre cagavano Dai, 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 dai